In compagnia di Luca D'Angelo ritrovo con estremo piacere, tecnico del Pisa ha vinto il campionato di Serie C con i play-off, ma è stato un giro di ritorno strepitoso, 22 risultati utili consecutivi, intanto come stai Luca? Tutto bene, in vacanza. In perfetta forma? No, in perfetta forma no, in perfetta forma mentale, fisica un po' meno. E poi quello che conta nel calcio, la testa che determina, spesso. Penso di sì, credo di sì, oltre alle motivazioni credo che la testa sia fondamentale. Stavamo dicendo, 22 risultati utili consecutivi, nel giro di ritorno è cambiato tutto, avevate fatto anche un buon girone di andata, 11 vittorie esterne in 18 gare, insomma numeri da urlo. Sì, abbiamo fatto un grandissimo giro di ritorno, la squadra a gennaio è stata rinforzata con 4 giocatori sicuramente di grande livello, che uniti a quelli che c'erano già nel giro di andata, ha fatto sì che abbiamo finito il campionato in crescendo. E poi nei play-off abbiamo vinto 4 partite su 6, di cui l'ultima la finale a Trieste. 3-1 al Nero Rocco, Triestina in 10, voi ne avete approfittato, però insomma avete meritato. Sì, nella partita di andata eravamo fatto bene, però non eravamo riusciti a vincere, è una partita di ritorno e soprattutto nel secondo tempo, nei tempi supplementari, la squadra ha dominato. Un pescarese che dunque vince, quest'anno è successo poco a livello calcistico, Luca D'Angelo, Verna di Lanciano, mi ricordo aveva vinto nel 2016 con Gattuso in panchina, e poi anche De Giglio, il portiere abruzzese di Santomero. Sì, c'è De Giglio di Santomero e c'è Di Quinzio, suo padre di Catignano, anche se lui è lombardo ormai di adozione. A proposito di Quinzio, 30 anni, grande stagione. Sì, è un giocatore che purtroppo per lui è esploso tardi, perché ha grandissime capacità, avrebbe meritato una carriera diversa, adesso speriamo che possa riconquistarsi qualcosa l'anno prossimo con il Pisa in B. No, perché andando a valutare l'organico che ti è stato messo a disposizione, non mi sembra che il Pisa fosse molto più competitivo rispetto ad altre squadre. Nel giorno d'andata eravamo sicuramente una squadra molto giovane, nel giorno di ritorno la squadra è stata rinforzata con calciatori di esperienza, però probabilmente c'erano formazioni più pronte di noi per vincere il campionato. Per esempio Minesso, che tu conosci Pever, che ce l'avevi abbassato. Minesso, lo stesso Verna, che è tornato da Cosenza, Benedetti e Pesenti, erano quattro giocatori che per la C sono sicuramente importanti. Il cambio passo c'è stato a livello soprattutto mentale, perché la squadra anche nel giorno di ritorno non era partita benissimo, poi abbiamo vinto uno scontro diretto a Vercelli, e da quel momento abbiamo vinto tantissime partite, soprattutto fuori casa. È stato un crescendo russiniano. Luca D'Angelo, abbiamo detto, pescherese doc, ma non è stato mai profeta in patria, anche da calciatore. Sei cresciuto calcisticamente nel Chieti, cinque stagioni se non vado errato, 4-11 la protagonista, eri giovanissimo, e poi a Castellisango dove hai vergato pagine importanti. Mi ricordo il gol a Genova contro il Genova, Stadio Marassi, vittoria storica 3-1 nel 97. Sì, probabilmente calcisticamente quel gol e poi l'esperienza a Rimini è stato il mio top, diciamo. Ti sei mai chiesto i motivi? Da calciatore probabilmente perché a quel tempo il Pescara militava spesso in Serie A e obiettivamente non avevo le capacità per farla. In Serie B una volta ci sono andato vicino, quando c'era Andrea Coni, direttore sportivo, però poi non se ne fece niente. Però va bene lo stesso, va bene così. Però sei stato sempre affezionato ai colori bianchetti? Io sono di Pia Terno, perciò la prima cosa che ti insegno è di fare il Pescara. Però insomma ti sei tolto tante soddisfazioni, calciatore abbiamo detto Castellisango, ma anche a Fermo con Ivo Iaconi allenatore, campionato di C1 nel 1999. Promozione storica anche in quel caso? Sì, quest'anno è stato il ventennale di quella splendida cavalcata, ho rivisto il mister con grande piacere. Lui ha fatto benissimo qui a Pescara, è amatissimo dai tifosi del Pescara. Sì, qualche campionato di C1 da calciatore l'ho vinto, perché poi l'ho vinto a Rimini anche. Nel 2005? Nel 2005, ho fatto C2, C1, B. Siamo tolte belle soddisfazioni, sono venuto a giocare spesso qui all'Adriatico da avversario. I tifosi mi hanno sempre accolto bene, devo dire la verità. Luca D'Angelo ha fatto la vera gavetta da allenatore. Sì, sono partito dagli allievi nazionali del Rimini, interregionale, C2, C1, e ho sempre vinto per conquistarmi la categoria superiore, però non sono il tipo che così si rammarica di questo, perché è ovvio che certe possibilità vengono date, secondo me la maggior parte delle volte anche giustamente, a qualche calciatore che ha avuto esperienze calcistiche elevatissime. e perciò va bene così, io ho fatto questa traiettoria e non è detto che non si riesca a crescere ancora. E' però un percorso questo in ascesa, perché come dicevi tu sei partito da Rimini allenando i giovani, poi hai vinto anche il primo campionato d'allenatore nel 2011, no? Di Serie D. Di Serie D, perciò dà forse ancora più soddisfazione, anche perché nessuno dietro ti può dire qualcosa, le raccomandazioni, non so. A Rimini forse sono stato un po' raccomandato, visto che sono stato 11 anni. Sei stata una bandiera. Sì, assolutamente. Però tutte le altre cose credo di essermene conquistate sul campo. C'è un modello a cui ti ispiri, parlo di allenatore, c'è un allenatore top magari che ti piace in modo particolare, non so. Io credo che i tre migliori in questo momento siano allegri per i risultati, Gian Paolo per quello che propone, e Conte per il fatto di essere, a mio avviso, un vincente, un grande martello. Poi sono tifoso dell'Inter, perciò il fatto che siamo dall'Inter è una nota di merito per me. Quindi il massimo sarebbe una sintesi 3-3? Sì, è impossibile, però sarebbe un Maradona del calcio. Il sistema di gioco invece predilige Luca D'Angelo, mi pare, tu giochi col trequartista, perché Minesso è un trequartista. Quasi sempre 4-3-1-2, a volte 3-5-2, però quasi sempre 4-3-1-2. Però insomma i numeri sono relativi, voi lo dite spesso ma è la verità, no? Sì, sì, sono relativi, anche se è importante che il calciatore, quando ha la palla, sappia che cosa deve fare e quando non ce l'ha pure. Quella è la base. Mi piace una squadra equilibrata, però i numeri poi dipendono. Se il 4-3-1-2 e il trequartista è un mediano è un conto, se invece è un trequartista vero è un altro discorso. Minesso è un trequartista vero. Giocatore di qualità che ha fatto la prima parte di questo campionato a Padova, il Pisa tornerà a incrociare il Pescara in Serie B dopo 25 anni, l'ultima volta nella stagione 93-94 e ci sarai anche tu. Era ora, soprattutto per il Pisa che ha vissuto anni complicati. Tifoseria pazzesca. Sì, eccezionale, di grande passione, è una città di 90.000 abitanti che ne porta 9-10.000 in Serie C, sempre allo stadio. Lo stadio è sempre sold out qua praticamente. A Pescara quando sei tornato da trionfatore, insomma, grandi festeggiamenti da parte dei tuoi amici, parenti? Sì, sì, assolutamente. Poi io non ho Facebook, ma mi dicono che gli amici di Via Terno abbiano fatto una pagina apposita per me. Questo mi ha fatto tantissimo piacere. Ho ricevuto così, tanti complimenti, ma anche da persone che non c'entrano niente con il calcio, che è la cosa migliore. Assolutamente, è gratificante questo. Non sei quindi social per scelta? Sì, sì, sì. Ho messo Whatsapp da pochissimo perché mi hanno costretto a... Almeno, almeno Whatsapp. Sì, perché ho fatto le comunicazioni, i messaggi quelli normali arrivano con più difficoltà. No, non sono social minimamente. Senti, del Pisa si è messo in evidenza, ho letto un po' di articoli. Gori, il portiere classe 96, tra l'altro appetito dal Cagliari. Sì, mi dicono di sì, è un portiere giovane, relativamente giovane, un 96, che ha fatto molto bene, ha parato cinque rigori, ha fatto una grandissima stagione. Ti sei già opposto alla cessione? Se deve andare in Serie A no, perché sarebbe un delitto per il ragazzo, se deve stare in Serie B, tanto vale che sia con noi. Ho letto anche di Castanos, Castanos, che è stato anche a Pescara, ex Juve, anzi credo che sia ancora di proprietà della Juve. Quindi, sinceramente, penso che siano più cose del giornale. Però, insomma, sarà un Pisa competitivo? Sì, è ovvio, come detto già dalla proprietà, che l'intento è quello di salvarsi. Anche all'ultima giornata andrebbe bene, però la piazza sicuramente pretende una squadra competitiva e che lotti fino alla fine per raggiungere l'obiettivo salvezza. Diciamo che l'obiettivo è il consolidamento in categoria, no? È inevitabile, perché il Pisa tre anni fa era in B, ha vinto il campionato, è andato in B, però è subito retrocesso. E invece bisogna mantenere equilibrio anche per i conti, che sono importanti. Ovviamente adesso il salto dalla C alla B economicamente è vantaggioso, perciò bisogna cercare di tenere la categoria a tutti i costi. Luca D'Agio ha fatto il salto di qualità, secondo me, negli ultimi due anni, perché anche lo scorso anno vorrei ricordare l'esperienza di Caserta, dove sostituisti Scazzola, se non vado errato, situazione un po' particolare e delicata in classifica. Siete arrivati al settimo posto in zona playoff, anzi avete fatto i playoff? Sì, abbiamo fatto i playoff, abbiamo perso con il Cosenza, che poi vinse qui il torneo. Siamo arrivati primi nel giorno di ritorno, adesso dobbiamo migliorare un po' nel giorno di andato, perché il giorno di ritorno di solito lo vinco, dobbiamo cambiare qualcosa a livello di preparazione. Questo è lo stadio triatico Giovanni Cornacchia, insomma, che ti ha visto tifoso quando eri bimbo. Sì, io ho visto la prima partita qui in Pescara-Campagna-Putirulana, 1-0, vincemmo. Quando c'era Sorbello? C'era Sorbello, vincemmo, era un bambino, in Curva Sud ero, mi ricordo, vincemmo gli ultimi minuti. Poi Pescara vinse il campionato quell'anno, vincevo. 82-83, capitano Repetto. Sì, un mito, Repetto, nobili Zucchini, fanno parte della nostra storia e della mia di bambino, ovviamente. Però tu eri un difensore centrale, anche dai piedi buoni, devo dire, hai fatto una buona carriera, potevi fare di più da calciatore? No, non credo, non credo, no, no, sinceramente no. Sei contento di quello che hai fatto? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Mai dire mai, eh? Un giorno magari? Sarebbe bellissimo, mia moglie mi ha chiesto, ma adesso che ti chiederanno se un giorno allenare il Pescara, ovviamente sarebbe splendido, però adesso è giusto che ci si concentri su quella che è la mia società, che è il Pisa, il Pescara, è così, un sogno, una speranza. Anche perché sei giovanissimo, ricordiamo, 48 anni, il prossimo 26 luglio, se non vado errato. È stato un piacere Luca, eh? Grazie a voi. Grazie.